Ma... Eh? Ti devo dire una cosa. Dimmi, dimmi. Però non ti devi arrabbiare. Hai preso una nota? Sì. Un'altra, un'altra nota hai preso... E perché te l'ha messa? Perché ti ha messo la nota? Perché non ho fatto i compiti di matematica. Complimenti, bravo, bravo. Sarai felice ora che hai preso un'altra nota. Complimenti... Io non te la firmo questa, io non te la firmo. Vai da tuo padre e glielo dici, gli dici quello che hai detto a me e te la fai firmare da lui, basta. Io sono stanca, io sono stanca. Anche Luca l'ha preso però. Non me ne frega niente di quello che fanno gli altri. Sei tu mio figlio, non sono gli altri i miei figli, va bene? E inutile che gli vai a dire che Luca ha preso. Non me ne frega niente. E ti comporti male a casa e stai andando male a scuola. A proposito, com'è andato l'ultimo compito che avete fatto di matematica? Quanto hai preso? Ho preso, bravo. E Luca? Bravissimo. Strano, strano che Luca prenda sempre più di te. Strano, ogni volta...